in un momento del genere bisogna ridare fuori tutto quello che sia dentro ma attributi forti perché ripeto come ho detto prima adesso veramente inizia partiamo da zero inizia un campionato partiamo da zero sappiamo che tutte le partite sono difficili ci sono degli ostacoli e dobbiamo essere bravi nel superarlo mister in vista della gara di domani ma anche più a lungo termine qual è il vestito tattico che vede più adeguato per questa squadra al netto del fatto che in questo momento è più importante lavorare sulla testa sì ha detto bene adesso è importante lavorare sulla testa sulla testa per cercare di 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 come ho detto prima di di essere propositivi propositivi che ha recapito il momento negativo e passare in quello positivo per quanto riguarda il lavoro tattico quello oggi lo metto il secondo piano perché poi ripeto la partita è in minette domani già si gioca e poi abbiamo la costruita per 15 giorni per poter lavorare bene e cercare poi di con il momento lato di tirare le somme come come sarà il futuro deve essere pronto altrimenti è guai c'è sesso si non è questa è la prova del nome no veniamo da una sconfitta interna domenica scorsa contro una squadra che sta lottando per vincere il campionato domenica invece andiamo a giocare uno scontro diretto dove come detto giustamente abbiamo degli avversati che tenteranno il timore di rimetterci in difficoltà ma nello stesso tempo noi dobbiamo cercare di essere più bravi grazie a tutti i nostri spettatori